Saluto Cristian e Francesco Se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video commenta con ascia che salutami o tormentami o bombardami di messaggi su instagram in direct Godetvi il video e lasciatemi un like se vi è piaciuto Musica si Ciao belli patati di risolette, è tornata qui di nuovo con un video su youtube Questo è un bellissimo vlog, quindi godetevelo Però prima che inizi il video, devo salutare 19 di voi, aiuto! È un vlog che dura dal 19 dicembre fino al 25 Ok, poi devo registrare un altro periodo natalizio Cioè da capodanno, inizio dell'anno, poi fino all'ipifania, se ce la faccio Allora, oggi è 28 dicembre Se vedete se metto a fuoco, sì, benissimo, guardate molte notifiche Che devo rispondere, benissimo! Ciao a tutti, oggi è lunedì, 19 dicembre E sono qui con il secondo vlog del periodo natalizio Sono le 2 e un quarto e sono ritornata a casa Tempo veramente bruttissimo La giornata scuola è andata tutto ok E nulla, sto aspettando per il pranzo Aguri! A chi voi state dicendo? A mio fratello, ciao Matti, un bacione Sono le 4 e ho finito di lavarmi i capelli Sono le 11 Ora vado dentro a letto Ci vediamo domani con il continuo del vlog Della giornata Buonanotte Martedì 20 ragazzi Eccomi qui, sto andando a scuola Sono le 7.50 E si è piovuto Che schifo sto tempo Non lo sopporto Spero di resistere anche oggi Fa freddo A dopo Sono le 3.10 Anche questo martedì se n'è andato Sono veramente stanca Si vede la faccia e le occhiaie E niente Oggi si resta a casa Per finire i compiti naturalmente Perché poi con il tempo che c'è Fa freddo Il cielo tutto grigio Ha piovuto Faccia di mercoledì 21 dicembre Ha suonato al 500% Sono andata a scuola Sono le 7.30 Ci vediamo dopo ragazzi C'è un voto di gente Infatti mi stanno guardando Sottimare Ciao Adesso vi saluta Ciao Ragazzi Anche il giovedì è andato Cioè il mercoledì Quindi anche questa giornata scolastica Del mercoledì se n'è andata E ora vado a pranzare Ciao Ah tra l'altro sono le 2.15 Ragazzi Io ho una fame assurda Assurda Sono le 4.20 Io sto andando con mia sorella A andare a vedere Se sono arrivati gli occhiali Per me da vista No nulla È una bella giornata Però fa abbastanza freddo Quindi noi ci sentiamo dopo Cioè ci vediamo dopo Ciao Ragazzi adesso ve li faccio vedere Non so se siete pronti Ma io sì Allora innanzitutto Eccoli qui Molto bella la custodia Decisamente Allora io sono mio Sono una talpa Non ci vedo da lontano E niente Sono contentissima E lo saranno anche i miei professori Finalmente Niente Allora innanzitutto Cioè dobbiamo vedere qua Roma Roma Quanto è bella Roma Quanto è bella Bellissimo Anche in pandan Con la custodia Ed ecco gli occhiali Con un maculato ragazzi C'è anche il blu Ho messo dentro il riflesso Tutto quanto Guardate il maculato blu Tutto maculato così E niente L'occhialo è principalmente nero Però c'è il maculato di Di tutte queste sfumature Che vedete Decisamente Molto belli E niente Mi sono fatti Provo a mettere così Alla proporzione E mi stanno bene Sì 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 Sono convintissima Della scelta che ho fatto E niente Devo studiare Devo pranzare E devo cenare Devo fare un botto di cose Devo anche lavarmi i capelli Niente raga Eccoli qui Sono contentissima Perché finalmente ci vedo Ci vedo Benissimo E Contenta anche degli occhiali Ragazzi Stasera Mi sono lavata I capelli Meno male Finalmente Mi sono fatta Quattro trecce Quindi Sono contenta Non riesco Ancora a entrare Nell'ottica Che ho gli occhiali Cioè Proprio Sono contentissima Perché ci vedo Finalmente E sono contenta Dell'acquisto A parte questo Io devo ancora Finire i compiti Fare lo zaino Sistemare La camera Cenare E sono le 8 e 5 Sono le 9 E Preparare i vestiti Per domani Dove di 22 dicembre Ragazzi sono andata a scuola E mi sto pubblicando Ciao Saluta Ciao Belli Stamattina Sono andata proprio Di corsa Quindi Ho interrotto Subito Perché dovevo andare subito A scuola E ero in mega ritardo Sono le 3 e mezza E Niente Sono andata Qualessia Che avete visto prima E Valentina A mangiare al Burger King E niente Buonasera gente Sono le 11 e un quarto Io mi sto rilassando Ma sono stanchissima Che bello da oggi Sono iniziate le vacanze Io sono strafelice Perché tantissimo ragazzi Tantissimo Niente Mi godo questo video di sera E forse a domani direttamente Ciao Ciao ragazzi Buongiorno Sono le 10 in questo momento Non mi sono alzata ora Mi sarò svegliata verso le 8 E ora Faccio colazione Ho già preparato tutto Devo solamente mangiare Non vedo l'ora Mi sembra sabato Invece no È venerdì E siamo in vacanza Ciao belli patati di riso Sono le 11 e 10 Io ho finito di Improfumarmi Lavarmi E vestirmi Da casa naturalmente Quindi Sono con questo Bellissimo maglioncino Caldissimo Celeste La tuta della Nike grigia E i calzerotti E ciabatte E niente Una cipolla improvvisata così Ho tutti i capelli mossi Dalle trecce di ieri Però resistono ancora Buongiorno Sono le 3 e un quarto Chiara saluta Ciao Siamo studiando Io no Chiara si I wish you a merry christmas I wish you a merry christmas E niente Bello lo sfondo così Ci da mia sorella I'm not happy E niente Cerco oggi Di finire con Finire Di iniziare I'm not happy Per le vacanze Perché ce ne ho troppi Perché non vuoi A dopo I'm not happy New And a happy New year Ragazzi Sono le 4 e 40 E io sto Uscendo Cos'è il tempo Noi ci vediamo dopo Bene sì ragazzi L'hai tornata a casa Sono le 7 E sono stra contenta Di essere ritornata a casa Perché Ho terminato Di acquistare Tutti i regali E ce l'ho fatta Sì Ce l'ho fatta In tempo Ed è Oggi Il 23 Dicembre Domani è la vigilia E si scartano i regali Per noi Sì Pomeriggio Tra Famiglia E Beh ragazzi Sono contentissima Perché quest'anno Ho potuto fare I regali Ai miei fratelli E ai miei genitori E quindi Contentissima Di tutto ciò Fa molto freddo Ragazzi Di fuori sì E niente Vabbè Devo fare tantissime cose E poi c'è la questione Compiti Quando farli E la voglia Non c'è Però Li voglio fare Levarmi Tutti Prima A dopo Sono le 10 e 40 Ragazzi Stamattina Devo fare una cosa Con Mia sorella Ma alla fine Niente Buongiorno a tutti quanti Sono le 10 e 40 Oggi È ufficialmente Il 24 dicembre E buona vigilia A tutti Che bello ragazzi Che bella giornata Ragazzi È quasi Mezzogiorno Io ho finito Di lavarmi i capelli Oh che bello Finalmente Sì Buon pomeriggio Saluta Chiara Sono le 4 e 20 Noi stiamo cercando Di fare i compiti Cioè Chi se ne prega Cioè Chiara deve studiare Dove Ciao Ragazzi Ecco qua Letta ruta Sono le 8 E niente Sto a casa Di mia cucina Siamo tutti quanti Tutti Tutti Tutta la famiglia Eh Io sono vestita così Bellissimo Ragazzi Veramente Sto a fare il paladoro Mi hanno fatti i miei bro E niente Ma è una gioia E a nome della San Paolo Ecco Antonella Il cuoio Dov'è No Ma che stiamo Ma che stiamo Ma che è resa Ma sono bello Grazie Hai visto il quadro Che mi hanno fatto Per di Sono acceso Qua stanno scartando Tutti i regali E Saluta Ho tanta salute Mamà Sì Antonella Bella Io sono mia sorella Si chiama Antonella Bella È mezzanotte È mezzanotte ora In questo preciso istante E Buon Natale a tutti Un bacione Sono troppo contenta E mi sono cambiata Avete visto Vabbè Non riesco a farvi vedere Tutto quanto Però Lo vedete Perché Io e mia sorella A mio fratello Stiamo andando Alla messa Di mezzanotte Quindi di Natale E niente Cioè Vigilia il Natale Quindi sono contentissima Quindi ora andiamo in chiesa E non so quando finirà Quindi ci vediamo dopo Ecco qui Raga Sono le 2.10 E Ho qui Il nuovo Pijama Se siete abituati a vedere Tutti il pijama Quello stellare Fantastico Ma eccolo qui Con il mio colore preferito Blu Che vuoi Ciao C'è anche mia sorella Raga E abbiamo il pijama uguale Però lei ce l'ha grigia e rossa Io ce l'ho blu e bianco Che bello Sono È fantastico Questo pijama È tutto blu Guardate che bello Buonanotte Ciao a tutti ragazzi Oggi è 25 dicembre Bellissimo il tempo Sì Auguri a tutti Anche se li ho fatti ieri sera Ma ero assonnata Al 100% Stamattina sono Carichissima E vi auguro Un buon Natale A tutte le famiglie Ai miei amici Un bacione a tutti Sono le 10 e mezza E io ho finito di fare colazione Insieme a tutta la famiglia Ragazzi Se vedete adesso il pijama è una roba caldissima Sono contenta Ho il pijama nuovo Sì C'è un altro A parte questo Devo fare un botto di cose Tra l'altro anche mettere a posto la camera Ancora ho iniziato i compiti Ciao Raga Io con la mia famiglia Stiamo uscendo Sono le 11 e 40 Questa non fa freddo Cioè C'ho la metà mani corte Metà maniche lunghe E sto giacchettino Che è primavera Chiarità vista Certo Perché se no Non ci vedo una mazza E niente A dopo Raga non vi avevo detto Dove stavamo andando Con la mia famiglia Allora siamo da mia nonna Sono le 3 E abbiamo finito di mangiare E niente Sono al bagno Come potete vedere E C'è casino Che sfondo Mamma mia Provo da video Niente Che posso dirvi Il tempo Dai Poteva andare Meglio Ma Ragazzi Finalmente Siamo ritornati a casa Cioè Sono stanchissima Sono le 7 Ci siamo stati un botto Raga Manco so quello Che ho filmato Comunque Se lo mettete Streccate So Tra 3 2 1 Menta il pigiama Certo Ovvio che si